Dopo mesi di attesa, come avevamo anche anticipato, si sono insediati il tavolo di monitoraggio e il gruppo di lavoro sull'accordo di programma e gli sviluppi successivi al protocollo d'intesa di 5 anni fa. Giovedì all'assessorato regionale delle attività produttive c'erano sindacati, manager delle aziende del gruppo Eni, i funzionari dei tre assessorati competenti e rappresentanti istituzionali coinvolti. Se l'avvio della nuova Green Refinery è imminente, i dubbi continuano a pesare sul progetto della base a terra per il gas che rientra negli investimenti del programma Argo Cassiopea. Il board di Enimed ha fatto sapere che la valutazione di impatto ambientale va verso la scadenza ed è stata proposta istanza di proroga. Ad oggi però dal ministero non sarebbero giunte risposte senza proroga della via, i lavori veri e propri non possono partire. A rischio, dice il segretario confederale della CISL, Emanuele Gallo, c'è la continuità lavorativa soprattutto degli edili inizialmente, continua il sindacalista. Il programma prevedeva che con la conclusione dei lavori della Green Refinery ci fosse poi la successiva ricollocazione nei cantieri della base a terra per il gas. La preoccupazione è che se non partiranno subito i lavori allora si verranno a creare grossi problemi occupazionali. Un allarme che di recente era già stato lanciato dalle segreterie dei chimici di Filtem, Femca e Wiltec. Le stesse preoccupazioni di Gallo sono state espresse dai segretari confederali di CGL e Wil, Ingazzo Giudice, Maurizio Castagnia e Vincenzo Mudaro. La convocazione è stata estesa anche al segretario confederale dell'UGL, Andrea Alario, alle organizzazioni datoriali. La prima riunione ufficiale è servita a fare un quadro più completo sulla vicenda delle bonifiche, altro punto che gli assessorati stanno verificando. I ritardi si sono accumulati nel corso del tempo, anche se da qualche anno le prime procedure sono state avviate.